Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, questo è epico! Au! Au? Perché si è sentito solo au! No, no, non quello è epico, è epico il grufalò! Sì, io ho il libro di grufalò! Tu sei crescita con il grufalò! Posso prendere il libro? Poi prendere il libro, intanto io spacchetto! Abbiamo la novità che è l'album delle figurine del grufalò che guarderemo insieme con Sara. Qui stacchiamo le figurine e abbiamo deciso che anche se poche le attaccheremo subito in modo da non perderle. Qua finalmente hanno sfruttato bene, bravi... Chi è che l'ha edito? La gazzetta dello sporco, orriere della sera. Il fondale non va perso ma si possono ritagliare i personaggi ed è una cosa quantomeno intelligente. Questo è il libro originale del grufalò! Che io ho e ho visto anche il cartone! Sì, prima in inglese, poi anche quando l'hanno doppiato finalmente l'hanno visto anche in italiano. è veramente, veramente simpatico. Volevo farvi vedere, tipo, questi ci sono i disegni qua c'è l'indice, c'è il grufalò, il grufalò e il grufalò è la sua piccolina. Ma giusto per dirvi di che cosa si tratta, fermati che dice un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide che bombo concino pensò osservando il bel topolino. È scritta tutta il prima! Ed è una cosa molto, molto simpatica, molto carina, ma non vi vogliamo spoilerare. Magari un giorno ve la leggerà Sara. Faremo così, se vuoi. Puoi leggerla tu a loro in modo tale che possono far ascoltare i loro figli. Ma noi andiamo a vedere. Voglio ricargliare il topolino. Intanto io guardo allora l'album delle figurine. Questo album è di... Le figurine sembrano abbastanza grandi. Sono abbastanza grandi. Abbiamo anche quelle rotonde. Qui probabilmente si ricostruirà l'immagine del grufalò. Sicuramente tanti personaggi. L'alfabeto con il grufalò ed è una cosa molto simpatica anche questa. Questa è la pagina lucida. Quindi ci saranno le figurine stacca-attacca in modo da posizionarle e creare anche delle storie. Hai ucciso qualcuno? Sì, un pezzo del grufalò. Un pezzo del grufalò, bene. Ma solo un pezzo. Ma solo un pezzo. Qui abbiamo altre figurine. Scende la nera. In realtà è il topino. Sì, il grufalò. Cioè nel grufalò e la sua bambina sono un po' sia il grufalò sia la sua bambina. Invece nel grufalò il grufalista è proprio il topino. Il grufalò è uno dei suoi libri preferiti. Sì, c'è anche... Come si chiama? Quello dei draghi. Apro, ma non tiro fuori. Lascio tirare fuori. E poi anche quello, come si chiama? Superverme. Superverme. Ma se vuoi, questi sono libri brevi. Superverme è un mito. Se sono libri brevi puoi anche leggerli, ripeto. Sì, infatti io ogni tanto li leggi. No, li leggi ai nostri amici. Così qualche volta li leggono mamma e papà e qualche volta li legge la piccola Sara. Ovviamente preparati. Ma noi vorremmo vedere come sono fatte le figurine del grufalò. Sì, proprio. Non potresti ritagliarle dopo queste cose? No, volevo tagliare il topo. Volevo tagliare il topo. Così che mi piaceva... Comunque, questo starter pack... Questo che è protagonista della storia. Costa 3,50 euro. Con due pacchetti di figurine e l'album. Mi sembra un prodotto, a vederlo così, fatto decisamente... Sì, puoi vedere la figlia del grufalò. Fatto decisamente bene. È proprio carino. Mi è voglia quasi di farlo. Se non fosse che... Bah, ci ragioneremo. L'idea comunque è buona. Dove sei arrivata la coda? Gliela stai per recidere? Tu, quindi vuoi dire che vuoi tenere tutti i personaggi per ritagliarli? No. Ah, ecco. Voglio il topo, il grufalò e la figlia del grufalò. E la vol... Praticamente ne mancano la volpe e il gufo. Sì, ma quelli sono antipatici. Come antipatici? Ah, perché, vabbè. Leggete la storia del grufalò. Oppure... È vero, sai che facciamo il video dopo? Sì. Allora, a breve arriverà Sara che legge il grufalò. Vai, fai vedere il topolino. C'è il topolino. Questo è il topolino ritagliato dal cartone. Sono solo due? Sì, sono due per il momento. Guardate. Questo è un cartone animale. Allora, dammi il numero. Dammi la pagina... Quella liscia. Questa è la pagina liscia. L'abbiamo trovato? Perché è là? Sì, sì, penso che va... Sì, 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 penso. Sì, serpente. Non ho visto altre lettere in giro. Tacca, tacca, perfetto. Poi... Sì, anche perché a lei... Quella è l'unica lettera. 83. 83. Numero 83. Esce il numero 83. Siamo a 65. 65, 78. Pagine lucide. 83. Non è 83. Intanto c'è un'altra lucide, ho visto. 86. 86. 86, quindi quella lì della bambina. L'ho attaccata malissimo e questo è quasi un delitto per me. Ok, vai. Attacca tu. Per me it's very normal. It's very normal people. No, credo che tu debba mettere la metà del giallo in modo che... Perfetto, così. Bravissima. Poi... Quella va qui. Il riccio... No. 94. 94. Andiamo avanti allora. Neanche una troppo avanti. Ah no, aspetta. 113. 113, va qua. Intanto circola 94. Perfetto, 94 qua. Mettila tu. Metto io. C'è il nostro amico Topino. C'è un po' di ombra scura, non riuscirò mai a attaccarla bene. Quel grufalo non mi viene bene. Ecco fatto. Poi, dimmi un numero. Aspetta, eh. Sono belle, viene un bello, un bello album. Questa nulla sulle varie. Vai alla pagina attacca-stacca. Attacca-stacca. Tua figlia, te l'attacco sopra di te. Ma come? Mettila in lontananza. Non può essere così piccola, mettila qua. 27. 27. 27. 27. Ma aspetta. Sì, 27. No. 27. Dai, attacca. È rotto. Non si capisce niente. Eh, no, perché tu non hai rotto la storia. Sono le ginocchia. Non capisco cos'è. Ginocchia nodose. Esatto. Terribili unghione e un bitorzolo verde in cima al nasone. 11. Abbiamo un pezzo del grufalo, proprio. Questa immagine è da ricomporre. 136 e poi va alla 105. Mamma mia, che bello, che bello. Però sapete che se non viene bene... Con questa roba, secondo me, ti viene voglia subito di... Di prenderlo, di farlo. Con la 105. Ne, 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 ne. Scusate, eh, ma le cose vanno fatte bene, se no... Se no si odia. Ok, poi, hai detto? 136. Siamo all'ultima pagina, direi. Quasi. 136, dammi. Questa. Ed è il gufo. E poi va alla 105, che intanto io continuo a tagliare la figlia del grufalo. Perfetto. Perfetto. 105. E qua. Ed è un altro... Aspetta. Sta cosa ti farà venire voglia di fare la collezione. Addirittura? Ho già capito. Cosa? Floccata. Esatto. No, ma floccatissima. Qui vuol dire avere il grufalo con sé. Magari anche la bambina è floccata. No, guardate, è floccatissima, lo faccio vedere da vicino, è morbidissimo. Quando è tutta completa avete l'immagine del grufalo floccatissimo. Bene, fantastico, ci abbiamo messo troppo, ho più di 8 minuti e passa. Mentre Sara finisce di ritagliare la figlia del grufalo, intanto voi iscrivetevi al canale. Prima di chiudere. Iscriversi basta schiacciare il tasto iscriversi, like basta schiacciare like, commentare, basta commentare se si può. Quando leggo la storia del grufalo e la sua bambina la mostro questa, quando c'è il grufalo e il topino. Bene, e quindi noi come sempre vi sottiamo e ci vediamo al prossimo video, ciao!